Che simbolizza da? Non lo sè Algo è cibo, lo ha pensato da guardare il peso Un'era Se va a venir il cellulare? Non me lo dite Me lo quittate e non lo dite Te lo di? No me lo dite Ehi se va O è Guarda la cosa 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 Guarda il fondo Corre la cosa Guarda la cosa Angella da Marina Sì